buongiorno amici benvenuti a calendario un altro tutorial sul display della super soko ts in questo caso come gli altri che avete visto prima mi avete chiesto se si può cambiare da chilometri orari in miglia si si può fare e vi faccio vedere come allora cavalletto su quindi vedete in rea di quindi normale come quando si parte solita posizione operazione scusate in 123 lampeggia vedete cosa facciamo quando la peggia così se noi spostiamo e accendiamo il pulsantino vedete da miglia se rifacciamo la stessa opzione da chilometri quindi diciamo che lasciamo e riattacchiamo pulsante miglia chilometri ok semplicissimo ovviamente oltre qua in miglia segnerà anche questo in miglia ok al prossimo video da credentario ciao ciao